ed eccoci di nuovo qui a parlare di valorant dopo il bellissimo video del silver molto prolisso di 15 minuti io farò un video molto 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 più ristretto io vi andrò a parlare semplicemente degli incantesimi che caratterizzano in questo caso omen ma prima di cominciare mi raccomando iscrivetevi al canale per altre novità e adesso partiamo con il nostro eroe eccoci qui adesso siamo nella fase di allenamento mi sono messo qui perché omen in questo modo riesce a darvi qualche spunto in più per l'utilizzo degli incantesimi intanto andiamo a capire che tipo di incantesimi ha i suoi incantesimi sono incantesimi ombra in questo modo lui riesce a colpire il nemico senza farsi vedere ed è questa proprio la sua peculiarità abbiamo quattro tipi di incantesimi come tutti gli altri eroi il primo che andremo a vedere è passo velato con passo velato io posso teletrasportarmi dove voglio all'interno di una stanza o all'interno della mappa ma devo stare attento perché posso teletrasportarmi fino a dove arriva la mia visione quindi ad esempio io non posso andare oltre questo muro ma posso andare fino alla prevedete non riesco a vedere e quindi non posso spostarmi oltre o anche di qua lì posso andare qua un pochino però posso andare ad esempio anche qui in zone più alte dove altri giocatori invece non riescono ad arrivare passiamo ora invece al secondo incantesimo quindi intanto ci spostiamo che è paranoia paranoia cosa crea crea questa sorta di di globo luminoso e lanciandolo impedisce al nemico di vederci quindi se siamo in una situazione di attacco di difesa abbiamo diversi nemici che ci stanno per attaccare castare q è la soluzione migliore in questo modo noi riduciamo la visibilità nostra al nemico e lo possiamo attaccare senza grossi problemi quindi ad esempio in questo modo sappiamo che lui non ci vede headshot ed è finita così noi vediamo questo tipo di ombra il nemico invece vede quest'ombra viola su tutto lo schermo tranne un metro di distanza quindi dovrà stare attento a dove va e dovrà stare attento di non inciampare su di noi passiamo ora invece a velo oscuro velo oscuro che crea una sfera di oscurità nella quale possiamo nasconderci e in questo caso possiamo andare a colpire i nostri nemici oppure possiamo utilizzare velo oscuro ad esempio per spostarci da un punto all'altro senza farci notare ad esempio noi sappiamo che magari il nemico laggiù bene castiamo velo oscuro lui non sa che ci stiamo spostando e andiamo dall'altra parte oppure possiamo benissimo entrare e sorprenderlo e per ultimo incantesimo abbiamo invece il viandante spettrale viandante spettrale che cosa fa viandante spettrale ci permette di viaggiare all'interno della mappa dove vogliamo la mappa poi in alto a sinistra solitamente vedete che c'è una mini mappa nel caso in cui noi andiamo a castare la x la minimappa viene completamente oscurata quindi i nemici non sanno dove siamo esattamente e questo qui è un elemento fondamentale soprattutto quando dobbiamo o piazzare delle spike o siamo da soli contro 5 in modo tale da rendere un po di confusione anche al nemico e poter sopravvivere e vincere la partita bene per oggi è tutto omen l'abbiamo un po snocciolato per le sue spelle e i suoi incantesimi magari faremo anche qualche gameplay parlerò anche con il silver vediamo se riusciamo a fare qualcosina per portare un po di materiale all'interno di questo canale se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale mi raccomando fondamentale e ci vediamo al prossimo eroe di valorant